Buongiorno, buongiorno e buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, grazie per essere collegati qui con noi anche oggi, ci diamo un paio di minuti come al solito per permettere a tutti di collegarsi e dopodiché iniziamo la sessione di oggi, grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e invece abbiamo Gianluca Buscuarrè, Vice President Global Empower Sales Acceleration, che ci presenterà nel dettaglio la tematica di questo webinar di oggi. Infatti in questa sessione parleremo nello specifico delle soluzioni EDR, in particolare degli aspetti che definiscono una soluzione come tale. Ci focalizzeremo su quali sono le principali soluzioni EDR disponibili sul mercato, approfondendo il posizionamento di WatchGuard rispetto alla concorrenza e in particolare parleremo di due concetti chiave che sono l'approccio Zero Trust e il Threat Hunting. Questa è l'ultima delle sessioni di Sales Enablement che abbiamo strutturato per dare a tutti i nostri partner, a tutti voi, gli strumenti necessari per poter vendere al meglio il portafoglio dei prodotti WatchGuard Enable Security. Vi ricordo che come al solito la sessione è registrata, al termine della sessione sarà disponibile la registrazione sui nostri canali YouTube. Lascio la parola a Ivan per una breve introduzione e dopodiché passiamo invece la parola a Gianluca per il webinar. Grazie. Sì, grazie. Confermo a me che mi sentite intanto. Sì, ti sentiamo. Perfetto. Un buongiorno a tutti anche da parte mia. Mi accodo e mi associo anche ai ringraziamenti di Elisa per il tempo che ci state dedicando. Come diceva Elisa, è l'ultima sessione. Abbiamo iniziato queste attività basate su step partendo dal vedere perché era importante vendere WatchGuard Enable Security. Abbiamo visto come incrementare il business grazie appunto al cross-sell su tutto il portafoglio dei prodotti WatchGuard. Ci siamo poi focalizzati su come posizionare WatchGuard Enable Security verso la competizione e più nello specifico anche WatchGuard e PDR. E poi abbiamo visto l'ultimo come ottenere la sicurezza appunto endpoint zero trust in un mondo che ormai come si diceva nella sessione precedente tenuta appunto da Gianluca è un mondo zero trust dove non ci si deve affidare più di nessun attore presente sulla nostra rete. Sono sempre più i partner che noi definiamo WatchGuard origin cioè quelli che erano già attivi con WatchGuard prima dell'acquisizione di Panda che hanno spostato la loro proposizione di endpoint security da una precedente soluzione appunto alla soluzione WatchGuard Enable Security con estrema contentezza e soddisfazione. Invito coloro che non l'hanno ancora fatto quantomeno a testare il prodotto perché rimarrete piacevolmente sorpresi della qualità, delle potenzialità, della stabilità. Parliamo di prodotti e moduli di elevata qualità che possono davvero aiutarvi a garantire un valore aggiunto a 360 gradi in termini di sicurezza ai clienti dei vostri clienti. Quindi nuovamente rinnovo questo invito. Lascio adesso, non voglio te diarvi oltre, lascio la parola a Gianluca Buscorre, e chiaramente io rimango collegato fino alla fine per eventualmente rispondere alle domande che potrebbero vedermi coinvolto per competenza. A te Gianluca. Grazie Ivan, grazie Elisa e buon pomeriggio a tutti. Ormai abbiamo imparato un po' a conoscerci, ma se vi siete collegati per la prima volta e state seguendo questo webinar prima di tutto il mio invito è quello di magari guardare le sessioni che abbiamo registrato, abbiamo già tenuto, tenuto, nelle settimane passate perché questo è stato proprio un percorso, non sono webinar scollegati tra di loro, anzi sono proprio un percorso che ci ha portato, anche Ivan lo diceva, da come posizionare fino alla competition, abbiamo fatto un po' di dettaglio sui principali competitor anche a livello tecnologico e oggi ci vede qua un pochino guardare che cosa davvero è rilevante, è importante sapere quando andiamo poi a confrontarci con i clienti ogni giorno, o i nostri clienti che magari utilizzano già tecnologie di ER, non un po' di detection response. Il mio nome è Gianluca Buscarre, sono Vice President Global Empowering Sales qui in Watchcar, arrivo dall'acquisizione di Panda Security, sono stato Vice President Sales Operation qui in Nord America, sono basato in Boston in questo momento. La mia responsabilità è quella di supportare ovviamente le varie region e voi partner, i nostri clienti, nell'adozione delle tecnologie. Un pochino di background, prima di Watchcar, come dicevo prima, arrivo da Panda, sono Panda Security, mi sono unito a Panda Security nel 2015, quindi ho più di 5 anni, 6, prima dell'acquisizione, e prima ancora in Simante per altri 6 anni, ero responsabile della vendita di alcune tecnologie vertical, tecnologici come DLP, Encryption, User Authentication, quindi la Multi-Factor Authentication che abbiamo anche qua in Watchcar, e poi avevo anche la responsabilità di alcuni grandi system integrator come BM, Deloitte, Entity Data, Dimension Data per il Sud Europa. Prima ancora Sophos, quindi sono ormai 17 anni che sono nel mondo del endpoint security e diciamo con grande soddisfazione. Partiamo un pochino con l'agenda, allora che cosa definisce una soluzione di R o endpoint detection response, è importantissimo per noi fare alcune distinzioni, ma subito dopo perché le soluzioni di R faticano un po' a contenere ancora il ransomware, l'abbiamo anche visto probabilmente un po' nella sessione precedente, che qual è il problema dal nostro punto di vista delle soluzioni oggi che alcuni vendor posizionano come endpoint detection response. Poi passare a Watchcar, perché le nostre soluzioni sono differenti, che cosa davvero ci differenzia rispetto agli altri, purtroppo c'è molto noise, c'è molto rumore di fondo, ci sono moltissimi vendor, il nostro modello che combina entrambi, ricordate abbiamo parlato dello zero trust l'altra volta, il tre tanti, perché sono combinate insieme e qual è il valore aggiunto. Abbiamo cercato di comprimere i principali competitor in una singola slide e abbiamo cercato un po' di mapparli, abbiamo cercato di farne un'analisi per vedere come noi siamo posizionati rispetto a questi competitor, esattamente che cosa manca, dove siamo più forti, dove altri competitor hanno delle carenze. E poi il futuro, so che ci sarà questo grande evento, vi invito a partecipare al lancio della nostra Unified Security Platform, però è importante anche per me, visto che ci colleghiamo, siete collegati, di darvi una sorta di piccola preview, e non coprirò interamente il soggetto oggi. Questa è una slide che amo particolarmente, perché è la perfetta rappresentazione di quale è oggi il mercato dell'employment protection. Ci sono, almeno io li ho contati, sono circa 28 vendor che vendono o che propongono, che posizionano sul mercato un po' in security, ci sono quelli molto grandi, quelli molto piccoli, alcuni non sono presenti in sede d'Europa o in Italia, magari sono più forti in altre regioni come negli Stati Uniti, ma sono 28, e ovviamente ognuno ha il proprio posizionamento, la value proposition, ognuno dice il mio prodotto è il migliore, o addirittura poi il marketing fa un ottimo lavoro, come il nostro, cerca di posizionare alcune delle proprie tecnologie, posizionandola come DR, oppure questo termine, che è stato sicuramente abusato negli ultimi anni e mezzo, il machine learning, tutti dicono abbiamo machine learning, utilizziamo intelligenza artificiale senza poi magari andare nel dettaglio e spiegare esattamente qual è la componente di intelligenza artificiale o machine learning che è integrata nel prodotto, piuttosto che magari viene solo utilizzata nel back-end. Alcune volte anche per noi è difficile, come posso dire, alzare la voce, cercare di sovrastare questo rumore di fondo per cercare di fare capire perché davvero le nostre tecnologie sono diverse, qual è il fattore differenziante, perché alcune funzionalità che alcuni vendor spingono moltissimo e ne fanno una sorta di cavolo di battaglia, magari non sono presenti nella nostra tecnologia, allora se ci focalizziamo a guardare solo con la specifica funzionalità e diciamo ok, però non l'avete, questa funzionalità non l'avete, senza guardare un po' di più la big picture, il quadro generale, se guardiamo poi il quadro generale la situazione è molto diversa, ci rendiamo conto di come Watch Car ha dei fattori differenzianti che dall'altra parte nessuno ha, addirittura nessuno ha anche mai approcciato nel proprio sviluppo tecnologico e per fare questo ho cercato di trovare il modo di rappresentarlo graficamente come il mercato probabilmente negli ultimi 15 anni si è evoluto, io l'ho vissuto in prima persona in questi, devo dire, più di 17 anni transitando su tre dei principali vendor di sicurezza presenti sul mercato nell'employment protection e anche qua vedrete che questa slide io l'ho volutamente lasciata in lingua originale, l'ho creata in lingua originale per il mercato americano, però è fondamentale perché nel momento in cui voi poi andrete a vedere con il link che è indicato nella slide esattamente il contenuto di quello che dice Garner è importante che ne troviate un riscontro opportuno e come vedete ci sono questi 5 box, alcuni più grandi, alcuni più piccoli che rappresentano alcune delle tecnologie già presenti sul mercato, Endpoint Protection, quello che ancora viene definito Next Generation of Endpoint Protection, IDR, quindi Endpoint Detection Response, MDR, MDR, Managed Detection Response Services e poi abbiamo XDR, Extended Detection Response. Alcune volte si pensa che questa sia una normale evoluzione tecnologica, che si sia partiti dall'endpoint per finire sull'XDR e che ci sia questa connessione, perché alcune volte i termini, come dicevo prima, vengono abusati da alcuni vendor e vengono posizionati come forse è più comodo per loro, ma ci sono delle grandi differenze e non sempre l'evoluzione tecnologica è stata conseguente, questi termini sono collegati in qualche modo. Se partiamo dall'endpoint protection, ovviamente immagino che voi tutti sappiate, sono piattaforme che sono nate, di nuovo questo lo dice Garner, non lo dico io, sono piattaforme che nascono e fanno leva su alcune funzionalità fondamentali che dovrebbero essere sempre presenti in un endpoint protection, quindi nel momento in cui vado a valutarlo, dovrei avere sempre riferimento il fatto che abbia ad esempio un personal firewall, quindi che non faccia leva sul firewall del sistema operativo, ma che contenga un firewall che sia stato costruito e pensato per lavorare a livello endpoint, che abbia la possibilità di fare device control ad esempio, o comunque che abbia quelle funzionalità minime o anche un po' più avanzate per il controllo del malware, di nuovo ricordatevi, ci siamo detti la volta scorsa, qualcosa che conosco, è basato sulla knowledge, è basato sulla conoscenza del vendor di alcune minacce o delle minacce basandosi appunto su motori euristici, basandosi su signature, basandosi su signature locali, piuttosto che in cloud, quindi per mantenere le giornate. E poi vediamo che subito dopo abbiamo un net generation endpoint protection, e questa sì che è un'evoluzione, siamo passati da un motore tradizionale di detection con la capacità di fermare minacce conosciute, ma poi siamo andati oltre, alcuni vendor sono andati oltre, con la capacità di estendere la propria area di azione attraverso la prevention, la possibilità di fare blocking, quindi di bloccare processi, o addirittura di fornare dei tool, alcune volte integrati nel prodotto, altre volte di terze parti, oppure in modalità OM, ma di fare isolation, quindi di permettere di isolare delle macchine o dei processi. Questa sì è una naturale evoluzione. Qui potrei aprire delle parentesi e passare un'intera ora a parlare solo di questo, alcuni vendor nostri competitori, ad esempio, sono passati da next generation, ad includere in questo gruppo di tecnologie funzionalità IDR, quindi funzionalità di endpoint detection response, quindi non sviluppando una tecnologia endpoint detection and response, ma sviluppando delle feature, delle capabilities, a complemento di queste tecnologie di next generation endpoint protection. Questa è fondamentale per noi fare questa distinzione e di nuovo, il modo più semplice, quando si dovrebbe valutare un vendor IDR, è chiedere, posso utilizzare il mio IDR o il tuo IDR caro vendor senza dover rimuovere il mio endpoint protection, è completamente indipendente o necessita dell'endpoint protection per funzionare? Questa è una domanda che noi suggeriamo sempre di fare, perché se la risposta è sì, cioè necessita di un endpoint protection per funzionare, per avere la funzione IDR, allora stiamo valutando un next generation endpoint protection più che un IDR. Se passiamo alle IDR, come vedete, questi sono tool, di nuovo, l'abbiamo utilizzato questo termine già in sessioni precedenti, sono tool che sono principalmente focalizzati, sono nati, nascono per fare essenzialmente tre cose, la detection, quindi la possibilità di fare detection di minacce normalmente sconosciute, permette di fare l'investigation, quindi di investigare queste minacce, quindi di fornire informazioni, e ovviamente qui il compito principale è proteggere questi host, gli endpoint, vedete qui c'è la parola host, senza fare distinzione di che tipo di device, dalle minacce sconosciute. E poi abbiamo di nuovo, come vedete, l'MDR, e di nuovo spesso c'è questa confusione nel fatto che l'MDR sia una naturale evoluzione dell'EDR, purtroppo non è così. L'MDR sono, o MDR sono Managed Detection and Response Services, sono dei servizi che forniscono una gestione 24x7 delle security operation, quindi vanno a complementare quello che alcune tecnologie non riescono a fornire attraverso la parte tecnologica, penso ad esempio alla mancanza di automatismi di remediation, attraverso dei servizi gestiti, e questo spesso i vendor li fanno pagare, c'è una fee addizione da pagare, un premium service, quindi è un servizio aggiuntivo. E poi abbiamo XDR, questa sì, Garner lo dice, è la naturale evoluzione dell'IDR, quindi l'extended detection response, lo dice, sono la naturale evoluzione di queste piattaforme e hanno come ruolo principale fornire a voi, i partner o ai clienti, se hanno le capabilities per farlo, strumenti che forniscano ovviamente in grado di andare a fare la risposta di un incidente, quindi ai security team, a chi oggi gestisce la parte della sicurezza, sia in grado di fornire tool per affrontare, rispondere a queste minacce, allora qui potremmo dire ok, ma qual è esattamente la differenza tra IDR e XDR, ok? Cercheremo oggi anche di andarlo a capire, dove arriva uno e dove arriva l'altro, perché abbiamo l'extended, perché devo estendere la capacità di raccogliere le informazioni non solo a un singolo oggetto che può essere l'inpoint, ma più oggetti all'interno della mia infrastruttura, ho una slide che parla proprio di questo, ecco, per me era fondamentale fare questa sorta di parentesi, perché se non abbiamo chiaro esattamente qual è il percorso che i vendor hanno fatto, quando andiamo a valutare un vendor, semplicemente perché magari riceviamo questi messaggi marketing o anche perché leggiamo la documentazione e ci viene detto che viene fornito un IDR che però richiede aver installato l'inpoint protection, questo non è, dal nostro punto di vista è come anche Gartner definisce l'approccio corretto. E se andiamo più nel dettaglio che cosa definisce una soluzione di MDR, ancora ho voluto lasciare in inglese perché arriva da Gartner, non arriva da me, deve poter ovviamente fornire una remediation automatica critico, assolutamente critico, quindi se una tecnologia di era che state valutando non ha la possibilità automaticamente di rimediare un incidente, ovviamente abbiamo un problema, deve ad esempio poter combinare la parte di network analytics, quindi la parte dei dati raccolti sempre sull'host, ma relativa al network con una parte di threat intelligence, quindi deve poterle combinare, quindi non solo endpoint, endpoint legata ai socket, ad esempio, quindi socket aperte i processi e poi la threat intelligence, quindi le minacce che vengono raccolte poi attraverso le sonde. Deve poter avere la possibilità di categorizzare e controllare questo tipo di minacce attraverso il framework Maitre, quindi ormai diventato uno standard e la nostra per esempio tecnologia ce l'ha bello chiaro, è bello, è ben integrato nel prodotto e poi la possibilità di integrarsi SIEM o soluzioni che fanno appunto la gestione automatica delle piattaforme di sicurezza, quindi di nuovo i dati raccolti da un agent o dagli agent che distribuiscono possono essere utilizzati per riempire, per poter fare un feed di queste informazioni su queste piattaforme e poi di nuovo avere una piattaforma di security unificata di nuovo è critico se mi richiede di avere più prodotti più tecnologie da dover gestire e non sono realmente unificate probabilmente questa tecnologia ADR non nasce probabilmente come la tecnologia ADR ma magari è frutto di un'acquisizione o è frutto di sviluppo di prodotti di next generation in point protection e poi di nuovo la possibilità di fornire insieme response in forensic io devo avere la possibilità o voi come partner dovreste avere la possibilità di poter investigare un incidente sulla base dei dati telemetrici e ho un paio di esempi più avanti che potremo vedere sulla base dei dati telemetrici e fare analisi forense magari non avete delle persone che sono specializzate nell'analisi forense quindi lo strumento deve darvi la possibilità di fornire quelle informazioni senza magari avere degli skill dedicati su questo aspetto e poi di nuovo deve avere la possibilità di combinare un po' la parte desktop laptop mobile e deve essere ovviamente gestito nella stessa piattaforma non possiamo pensare di avere delle mancanze sui sistemi operativi soprattutto quelli più vulnerabili o più complessi da gestire ad esempio gli ambienti linux non protetti dalla tecnologia e poi per finire ma non sicuramente per ultimo quello che poi è definito come l'operational technology quindi come gestire come fornire sicurezza ma poi poterla gestire in modo efficace allora mi verrebbe da dire ce lo siamo secondo me chiesti l'abbiamo forse visto la volta scorsa perché ancora oggi le soluzioni DR faticano a contenere il ransomware abbiamo oggi io faccio ancora oggi incontri con partner clienti ovviamente qui negli Stati Uniti e mi dicono sto usando questa tecnologia sto usando questo vendor mi è stato venduto con una tecnologia DR per fare il ransomware adesso un cliente che mi chiama è stato compromesso alcune di queste domande ovviamente hanno una risposta altre richiederebbe molto tempo per affrontarle come ad esempio queste soluzioni implementano davvero un single agent architecture abbiamo partiamo dalle basi quello che io distribuisco è un singolo agent o mi richiede siccome è frutto di acquisizioni è frutto di sviluppo tecnologico non pensato per essere gestito da una singola interfaccia mi ritrovo ad avere magari 10-12 agent e abbiamo visto l'altra volta nel webinar precedente il numero di agenti installati sulle macchine è cresciuto da 10 come media a 14 quindi di nuovo il numero di agent fanno una grandissima differenza e poi forniscono visibilità real time l'abbiamo visto anche questa in una sessione precedente quando abbiamo discusso i competitor ci sono ci sono alcune soluzioni che ancora oggi non forniscono i dati in real time probabilmente per una loro storicità nascono come soluzioni on premise e poi sono state migrate in soluzioni in cloud e di nuovo i sistemi operativi supportati gli ambienti legacy se non supportiamo gli ambienti legacy perché magari i nostri clienti non sono in grado di migrare le piattaforme a causa di applicazioni critiche applicazioni di produzione come possiamo mettere in sicurezza quell'ambiente da un attacco layer di sicurezza aggiuntivi quindi la parte di patch management encryption sono davvero integrati o sono singole componenti oppure non li abbiamo proprio non rientra come vendor nella nostra nella loro direi offerta e zero trust Ivan lo diceva all'inizio deve essere un modello un framework fondamentale ma non solo un framework di processo deve essere realmente tangibile deve essere qualcosa che sia integrato nella tecnologia che posso misurare e vedere se io dico solo la mia tecnologia è zero trust perché magari riesco a implementare una policy questo dal nostro punto di vista non è l'approccio corretto quindi non fidarsi del proprio sistema operativo io non mi fido dell'aggiornamento di windows e siccome non mi fido devo avere qualcuno una terza parte che è in grado in questo caso di classificare di certificare che l'esecuzione di quel particolare binario una DLL sia ad esempio un goodware e non malevolo e di nuovo la DLL è un esempio rilevante quando magari viene utilizzata per cifrare viene utilizzata una parte del nostro sistema operativo contro di noi per cifrare i nostri dati pur essendo un considerato goodware e poi di nuovo gestire le applicazioni goodware che vengono usate contro di te quelle che vengono chiamate weaponized application vengono utilizzate come armi PowerShell è un grande esempio come lo controlliamo abbiamo un sistema oggi che è in grado di dirmi quale utente lo sta utilizzando per quali motivi e con quali scopi viene utilizzato ora alcuni vendor hanno trovato la soluzione al male assoluto è quella della ransomware warranty o la assicurazione contro il malware ce ne sono qui ne cito alcuni perché sono probabilmente i tre che la pubblicizzano di più quindi abbiamo un milione di dollari di assicurazione nel momento in cui sei attaccato non ti preoccupare che noi copriamo i costi ti restituiamo i soldi dal ransomware che è stato pagato e via dicendo allora vi vorrei vi far chiedere di restare poi collegati per i prossimi webinar quindi collegatevi probabilmente già l'anno prossimo gennaio perché terremo un webinar dedicato esclusivamente a sfatare il mito di questa ransomware io l'ho speso personalmente insieme a un collega qua negli Stati Uniti giorni andando a guardare esattamente tutte le clausole di questi contratti di assicurazione o come le chiamano loro di ransomware e abbiamo scoperto delle cose estremamente interessanti quindi cercheremo in questo webinar di sfatare il mito di questo tipo di approccio quindi restate collegati perché arriverà arriverà questo webinar a breve e di nuovo sarà molto interessante quali sono i benefici derivanti da passare a Watch passiamo un pochino a noi allora sicuramente uno dei benefici è che abbiamo necessità di rimediare probabilmente un attacco quindi un cliente ci sta chiamando magari utilizza un'altra tecnologia ha un ambiente compromesso e quindi ha necessità necessità di andare prima di tutto a ripristinare l'ambiente magari senza anche rimuovere il proprio antivirus è stato compromesso ma dice io ho un antivirus l'ho già pagato per tre anni non lo voglio rimuovere ok pur essendo compromesso succede abbiamo tutti questi casi ma devo avere la possibilità di rimediare a questo ambiente compromesso quindi ovviamente siamo in grado di poterlo fare magari abbiamo la necessità di aumentare il livello di protezione quindi dobbiamo passare da quello che avevo definito nelle slide principali all'inizio da endpoint protection o next generation endpoint protection a un modello più avanzato quindi la parte DR e DR e se vi ricordate non siete obbligati a rimuovere l'antivirus magari siete contenti con quello che avete oppure potete poi rimuovere anche l'endpoint protection e andare sulla parte di watch che è di PDR altra cosa fondamentale ho citato prima la parte di dati telemetrici o di telemetria dobbiamo essere in grado di raccogliere i dati che siano realmente utilizzabili che siano fondamentali perché se no rientriamo nella categoria dell'alert fatigue abbiamo coperto questo tema la volta scorsa quindi siamo affaticati da enormi quantità di log e non siamo in grado di distinguere più che cosa dovrei guardare su cosa dovrei focalizzarmi come attività principale e quindi di nuovo se riusciamo a fornire dei dati che sono realmente utilizzabili ovviamente questo ci permette o vi permette di aumentare il livello di analisi su degli eventi che sono realmente legati alla sicurezza quindi andiamo a rimuovere farsi positivi farsi negativi e ci focalizziamo solo su quegli eventi che sono fondamentali per noi e poi migrare da un modello che nasce per essere reattivo e non stiamo dicendo che sia sbagliato Panda Secure ad esempio aveva prima dell'acquisizione ancora adesso un watch car 30 anni di esperienza partendo dalla parte più tradizionale di Empower and Protection quindi passare da un modello che senza un dubbio reattivo una minaccia cerca di compromettere il mio sistema devo rimediare a passare a un modello che invece è predittivo quindi attraverso il threat hunting e attraverso la parte di zero thrust applicativa quindi io non mi fido di nessun binary sulla mia macchina devo poterlo bloccare se non classificato e se cerca di essere eseguito e lo citavo prima non possiamo pensare di metterci lì poi se avete un ambiente più complesso molti clienti da gestire centinaia migliaia di alerts che vengono generati da ogni singola macchina da chi si collega attraverso credenziali valide a chi si collega utilizzando credenziali di un altro utente ad esempio come facciamo a distinguere quale degli incidenti dovrei priorizzare magari non abbiamo un SIEM magari non abbiamo una piattaforma di SOAR come può renderci più facile la tecnologia gestire questo tipo di situazioni e poi di nuovo ottimizzare l'utilizzo di risorse magari avete risorse limitate o non sono super focalizzate sul threat hunting e non avete un ricercatore o un data scientist all'interno della vostra organizzazione quindi devo poter focalizzare le risorse che ho a disposizione su minacce che sono reali su minacce che la tecnologia riesce a evidenziarmi come critiche e importanti da andare a indirizzare immediatamente senza domerare magari che ancora citavo prima avere persone che sono magari super o super skillate sulla parte del threat hunting e magari non abbiamo all'interno della nostra organizzazione parliamo di zero day e quando parliamo di zero day ovviamente qui possiamo mettere quelle che sono le vulnerabilità dei sistemi e le patch perché ovviamente uno dei grossi problemi che ancora oggi si affronta io dico purtroppo è che spesso ci si focalizza sui sistemi operativi distribuiamo le patch non siamo proprio sicuri o magari lo strumento che utilizziamo non ci dice se la patch è running è in esecuzione magari è stata distribuita ma non è in esecuzione però poi non ci focalizziamo magari sulle terze parti sulle migliaia e migliaia di applicazioni che ogni giorno i nostri utenti o i vostri clienti utilizzano e che magari non sono supportate da una tradizionale tecnologia di patch management oppure magari non avete l'intenzione o magari non avete una tecnologia di remote monitoring e management RMM perché magari è troppo costosa perché magari non giustificata dal tipo di business che state facendo oggi con i nostri clienti quindi non vi permette di avere una soluzione che è in grado di fare tutto ok quindi dal nostro punto di vista poter integrare in un singolo agent la parte di R tra tanti in zero trust applicativo patch management in encryption in un singolo agent quindi senza neanche dover reinstallare ridistribuire o rifar partire i servizi di sistema lo vediamo come un enorme vantaggio sulla competition sui competitor enorme vantaggio ovviamente se siete interessati alla soluzione di RMM nel nostro portfolio abbiamo anche quello le nostre soluzioni sono differenti io penso che questo sia veramente critico reiterare più e più volte noi siamo stati in grado già dal 2015 di combinare quando abbiamo rilasciato la tecnologia di R per la prima volta 2015 combinare tecnologie e servizi di sicurezza gestiti questo è stato il grosso valore aggiunto e la possibilità di averli combinati quindi quello che viene definito service as a feature è dicevo prima è un valore aggiunto è un grande vantaggio ci focalizziamo su quello che per noi oggi è considerato una minaccia sconosciuta sembrerà strano ma i nostri clienti non abbiamo più problemi legati a ransomware per noi il ransomware non è un problema fatto salvo poi i clienti che magari per qualche motivo disattivano la protezione ok ma se il prodotto è distribuito configurato nel modo seguendo le nostre guideline il ransomware per noi non è un problema ci focalizziamo più sugli attacchi hacker su qualcuno che utilizza dicevo parte del nostro sistema operativo per fare un exploit piuttosto che i movimenti laterali e poi ovviamente la nostra singola piattaforma il singolo agent che contiene già tutto quindi multifunzionale incluso la parte patch management è un grandissimo valore perché dicevo non dovete ridistribuire tutto da zero ogni volta se pensiamo a il modello o il modello che abbiamo implementato di zero trust è lo zero trust application service come questo questo framework vi ricordate ne abbiamo parlato la volta scorsa di cinque modelli la parte network le persone il workload i dati e poi la parte visibility viene poi integrato in un prodotto tecnologico tutto si basa quando guardiamo lo zero trust application service si basa sulla classificazione il monitoring di qualsiasi cosa che viene ne viene tentata l'esecuzione sulle vostre macchine o macchine dei vostri clienti quindi nessuna applicazione nessuna DLL nessuna DLL verrà invocata quindi o verrà eseguita o effettuare una chiamata se non prima classificata da WatchGar e qui guardiamo un po' andiamo un po' forse nel dettaglio come il machine learning viene utilizzato nel nostro modello utilizziamo machine learning e intelligenza artificiale per fare quello che viene chiamato un ranking intanto è vero che si chiama il modello che utilizziamo ne utilizziamo più di uno ma è quello quello principale e il motivo per il quale utilizziamo questo modello di machine learning è perché alla fine del processo di analisi ricordo prima del file avviene ovviamente in tempo reale dobbiamo abbiamo necessità di restituire un rank un valore un giudizio e se questo giudizio questo rank questo valore non è sufficiente per automatica per classificare in modo automatico l'applicazione come goodware o come malware abbiamo qualcuno un nostro analista un malware analyst che manualmente va a investigare questo oggetto ora non c'è nessuna interazione tra amministratore di sistema o chi gestisce la tecnologia con questo processo questo è un processo completamente gestito e automatico da parte di watchcard un po' quello che alcuni l'hanno sempre visto come un termine abbastanza negativo il whitelisting blacklisting ma immaginate di avere un servizio gestito di whitelisting e blacklisting integrato nella protezione quindi non richiediamo a voi di andare a investigare il motivo per il quale un certo binario è stato fermato perché questo servizio automaticamente è integrato ovviamente siccome siamo partiti nel lontano 2015 ormai abbiamo visto che il 99,98% siamo abbastanza specifici precisi qua delle applicazioni sono già state classificate quindi la cosa positiva è che non è che se oggi installate la tecnologia qualsiasi applicazione che voi cercate di eseguire verrà bloccata anzi in realtà potrebbe accadere che tutte le applicazioni vengono eseguite perché tutte le applicazioni sono già state classificate da noi come Google ma nel momento in cui ad esempio qualcuno all'interno della vostra organizzazione di vostri clienti ad esempio crea da zero un file quindi uno script 15 righe 20 righe di file e lo ricompila per diventare un binario in quel momento siccome è vostro e nessuno l'aveva visto il sistema automaticamente lo andrà a bloccare lo andrà automaticamente a classificare come goodware o come malware ok e verrà ovviamente poi permessa l'esecuzione di nuovo a livello statistico 0,02% richiede un'analisi manuale proprio per questa enorme mole di dati che adesso andremo a vedere che noi raccogliamo su ogni singola macchina su ogni single binary questo è un modello fondamentale per noi è quello che ci ha permesso oggi di ridurre il bilancio nel dirlo gli attacchi ransomware o gli attacchi basati su file praticamente a zero non abbiamo più questo problema perché anche se voi ricevete una fantastica mail di phishing qualcuno ci va a cliccare e si scarica un oggetto binario sulla sua macchina quell'oggetto binario non verrà mai eseguito perché non classificato e perché probabilmente sconosciuto ai nostri laboratori parlavo di visibilità e questo è un'altra slide che amo particolarmente e spesso ho fatto riferimento nei webinar precedenti alla parte telemetrica i dati l'enormità dei dati che andiamo a raccogliere ma dobbiamo poi essere abbastanza vorrei essere abbastanza preciso quando parliamo di dati telemetrici intanto possiamo suddividerle in categorie di eventi telemetrici ne abbiamo circa 30 nella parte destra di questo slide ne vedete rappresentati sotto forma grafica alcuni per esempio l'integrità di sistema piuttosto che la monoporazione di processi queste sono ne vedete 6 6 delle 30 macro categorie che abbiamo sulla parte di dati telemetrici l'accesso ai dati è un altro esempio i dati di network è un altro esempio quindi socket sono esempi di dati telemetrici per ogni di queste categorie quindi ricordate ne abbiamo 30 ce ne sono solo 6 abbiamo 94 subcategorie ok quindi i socket ad esempio è una sottocategoria quindi quando andiamo a guardare i socket di nuovo provate a pensare a un'applicazione che apre un socket per comunicare verso una country per noi questa questa informazione è fondamentale non è un'informazione che va a indicare di per sé un'attività malevola perché magari sta utilizzando Skype e Skype apre un socket di comunicazione e ovviamente la mola di informazioni che raccogliamo correlate con gli incidenti e con i binary che ne vanno poi ad aprire questi socket ci permettono di andare a uno classificare le applicazioni come malware o goodware ma molto importante poi vi permettono di contattare voi il vostro supporto tecnico in caso di un possibile attacco o di un evento anomalo e di nuovo per darvi un esempio per ogni singolo binary può essere una DLL può essere un file eseguibile raccogliamo quasi 10.000 attributi per ogni file quindi provate a pensare ogni attributo ogni ogni singolo file 10.000 attributi per ogni file installati sulla vostra macchina per ogni macchina che proteggiamo nel mondo parliamo di miliardi di miliardi di attributi raccolti alcuni dati statistici molto molto importanti 4 miliardi di eventi processati al giorno che sono ovviamente dentro il nostro data lake la nostra bit data e negli ultimi 12 mesi abbiamo raccolto quasi come 500 miliardi di eventi ora so che di nuovo ogni vendolo dirà ma io ho queste queste fantastiche statistiche fermo milioni e migliaia di minacce sconosciute l'obiettivo per noi fondamentale attraverso questa slide è farvi capire che queste informazioni sono critiche fondamentali per due scopi uno la parte di classificazione attraverso la Zero Trust ma due per permettervi a voi di fornire visibilità non correlata o diciamo collegata a eventi specifici di sicurezza ad esempio l'utilizzo delle applicazioni la banda utilizzata delle applicazioni se qualche utente sta usando Spotify se ad esempio possiamo vedere che un'applicazione sta prendendo dei socket attraverso una country alla quale noi abbiamo nulla a che fare fino a poi arrivare all'utilizzo dei dati no se penso alla parte più europea quindi comunità europea il GDPR è un grande esempio io penso l'unico vendor ancora oggi ad aver integrato nella propria tecnologia IDR una tecnologia che permette di andare a coprire la parte del GDPR facendo leva proprio sui dati telemetrici sui dati che raccogliamo e che integriamo all'interno della stessa console la manipolazione di processi probabilmente andare a vedere se qualcuno va a killare un processo stop a un processo di per sé potrebbe non essere un incidente di sicurezza ma io sono interessato a capire perché magari nell'arco di tre ore lo stesso utente è andato a killarmi alcuni processi che possono essere critici sia per la sicurezza ma anche per la business continuity della macchina ecco queste informazioni noi le raccogliamo le mettiamo a disposizione vostra attraverso prodotto quindi la parte di watchcard IPDR ma anche advanced reporting tool alcuni di questi dati invece sono magari disponibili attraverso il nostro CM feeder quindi avete un SOC avete un CM volete raccogliere queste informazioni dentro la vostra piattaforma abbiamo abbiamo un documento scusa abbiamo un documento che descrive esattamente quali dati telemetrici e quali informazioni queste categorie che andiamo a raccogliere e possiamo mettere a disposizione ovviamente poi potreste andare a fare query e analisi comprese analisi forense attraverso questi dati magari vi chiedo di contattare i nostri sales engineer per avere a disposizione questo documento sentite liberi di contattarmi direttamente sarò felice di mandarvelo anche questo magari velocemente come reminder ma è di nuovo fondamentale il passaggio da quelle che le normali tecnologie incluse tecnologie DR utilizzano come modello quindi passare da trust everyone quindi io lascio eseguire l'oggetto per poi andarlo a identificare come malevolo a passare da un approccio trust no one in realtà il modello appunto è zero trust trust no one le tre macro categorie la vendor knowledge vendor technology vendor services e di nuovo non stiamo dicendo che questo è sbagliato noi lo utilizziamo nella parte in point protection ad esempio basa ovviamente nel primo tutta la sua tecnologia sulla preesecuzione io devo sapere in anticipo se qualcosa è malevolo quindi mi baso su una signature mi baso su un motore oristico mi baso su una url reputation e lo blocco lo identifico so esattamente cosa andare a cercare e poi abbiamo la parte tecnologica quindi dove un vendor non riesce a bloccare in fase di preesecuzione qualcosa che è sconosciuto lo lascia eseguire e poi utilizza machine learning ricordatevi dicevo all'inizio tanti vendor utilizzano questo nome che è sexy machine learning e basano le loro tecnologie sul comportamento il problema di basare una tecnologia di machine learning sul comportamento fare leva su questo è che cosa accade se non è veloce a sufficienza se non riesce a intervenire a sufficienza tanto è vero che se vi rendete conto come alcuni vendor hanno sviluppato le proprie tecnologie utilizzano machine learning ma quando non è veloce a sufficienza si devono basare ad esempio sulle shadow cove per recuperare i dati quindi fanno questa distinzione tra good verso bad quindi è good o malware perché si comporta in modo anomalo cambia il suo comportamento e di nuovo siccome non sono stato veloce a sufficienza non sono stato in grado di fermare la cifratura ad esempio di tutti i file magari l'ho bloccato in modo parziale devo poterli recuperare e di nuovo qui cadiamo in un altro problema non sempre è possibile recuperarli oppure li recuperiamo in modo parziale oppure vengono persi definitivamente questo è il motivo per cui di nuovo se oggi abbiamo una tecnologia IDR non watch ma il nostro competitor e ancora abbiamo e stiamo soffrendo un problema legato al ransomware probabilmente cadiamo in una di queste tre categorie ora la parte di perso fondamentale l'altra volta abbiamo detto il 70% degli attacchi ransomware quindi dati da gennaio a quindi era il primo alfa il primo prima metà dell'anno del 2021 e il 70% degli attacchi ransomware prevede ha incluso quindi ha contribuito alle sfiltrazioni dei dati quindi i miei dati sono persi non solo perché non riesco a recuperarli attraverso la tecnologia ma perché lasciano l'azienda quindi sono anche soggetto a il ricatto quindi al ransom di riavere i miei dati indietro prima di essere ad esempio pubblicati se sono dati sensibili dal nostro punto di vista e di nuovo dicevo prima queste tre macro categorie non sono non sono sbagliate no ma non devono essere le uniche l'unico modello sulla quale una tecnologia di ria si basa o dovrebbe basare la propria protezione quindi che cosa abbiamo fatto in più come dal nostro punto di vista abbiamo cambiato drasticamente l'approccio ci siamo detti bene se il problema è durante l'esecuzione o come posso fermare qualcosa prima che venga eseguito io non lo conosco non so cosa sia l'unica opzione non può essere solo lasciarla eseguire e verificarne il suo comportamento e allora abbiamo deciso dicevo prima l'entrano 2015 di iniziare questo processo di classificazione di classificare ogni oggetto binario che tenta l'esecuzione e questo ci ha permesso oggi di utilizzare la parte di threat hunting ok che vedete qua dentro al prodotto insieme alla Zero Trust Application Service per andare a monitorare dopo che l'applicazione è stata classificata come Goodware ok se questa applicazione improvvisamente diventa malware oppure improvvisamente pure un'applicazione essendo Goodware come PowerShell viene utilizzata contro i nostri sistemi questa è la grossa differenza che vediamo quindi non ci siamo limitati a guardarne il comportamento dopo che viene eseguito ma lo andiamo a classificare il file binario prima che venga eseguito se pensiamo a questo punto alle tecnologie di managed technical response riceviamo spesso alcune domande riguardo questo aspetto ovviamente ci sono mille risposte ad esempio perché non avete preso la strada che alcuni competitor hanno preso fornendo direttamente ai clienti servizi di managed action response la risposta è semplice prima di tutto siamo un vendor completamente di canale quindi riteniamo che i nostri partner abbiano valore e riteniamo opportuno che i partner siano in grado di fornire un certo numero di servizi perché sono ovviamente servizi a valore che il cliente va ovviamente a valutare ma dall'altra parte penso che siamo stati in grado di fornire con tecnologia le informazioni necessarie a evitare magari un costo addizionale ai propri clienti o voi come partner nel dotarvi di tecnologie di managed action response poi vedremo come questo cambierà attraverso la piattaforma XDR quindi di extended action response ma ad oggi se io vado a pensare ok devo valutare di pagare un servizio premium come servizio MDR che cosa mi offre? mi offre qualcosa che è una mancanza a livello tecnologico quindi sostituisce una soluzione o complementa una soluzione alla quale manca qualcosa ad esempio lo zero trust e quindi è in grado di segnalare un possibile attacco ma poi non è in grado di fermarlo o necessita di qualcuno che vada lì a farne un'analisi manca ad esempio della possibilità di integrare nella tecnologia servizi as a feature quindi servizi pensati per essere integrati in un prodotto e quindi che non richiede una fia addizionale ci sono questi servizi as a feature inclusi nella tecnologia e poi di nuovo se pensiamo a questi servizi inclusi nei prodotti che ovviamente non richiedono costi aggiuntivi ne abbiamo già due dentro quindi zero trust application service è la parte di tre tanti quindi siamo in grado di notificare voi il vostro supporto tecnico lo supporto tecnico dei vostri clienti nel caso in cui ad esempio ci sia un attacco brute force oppure se c'è qualcuno che sta facendo privilege escalation o lateral movement questo fa parte per noi della tecnologia è imprescindibile ok poi sappiamo molto bene che se guardiamo l'evoluzione e ricordiamoci Gartner dice che l'XDR è la naturale evoluzione ok dell'IDR ci sono dei vendor che fanno solo MDR ma fanno molto di più quindi fanno SOC fanno gestione del SOC fanno la parte di security operation cosa che esce completamente dal binario della protezione endpoint più tradizionale o anche della protezione attraverso EDR quindi era importante di nuovo per noi fare una distinzione perché spesso c'è un po' di confusione rispetto a che cosa contiene uno che cosa contiene l'altro oppure che cosa non contiene il prodotto e quindi necessito di avere un servizio premium da pagare perché il prodotto manca di alcune funzionalità e se guardiamo in termini tecnologici che cosa c'è all'interno di questi services e features ci sono le tre categorie le tre macro categorie ricordate che dicevamo prima la pre-esecuzione la pre-esecuzione l'esecuzione e la post-esecuzione e ognuno di questi tre modelli ricordate che ho detto non è che sono sbagliati li abbiamo anche noi ma devono essere complementari a qualcos'altro quindi in fase di pre-esecuzione siamo in grado di andare a bloccare decine decine di milioni di file malevoli perché già li conosciamo quindi facciamo leva su la conoscenza ok però dall'altra parte circa il 20% di quello che noi andiamo a bloccare è completamente sconosciuto mai visto prima e quindi io non posso permettermi che solo che anche se sembra piccola una piccola una piccola percentuale il 20% venga eseguito e da qui di nuovo l'1,3% circa di questo 20% è malevolo quindi perché devo permettere a questo 20% l'esecuzione per poi andarlo a controllare dopo che è in esecuzione devo poterlo bloccare prima e qui entra in funzione la tecnologia di cui citavo prima è la combinazione del vendor knowledge ricordatevi la signature l'oral reputation che c'è a prescindere è la parte che dobbiamo avere perché fa leva sulla conoscenza ma poi quando questo file cerca di essere eseguito deve essere intercettato prima dell'esecuzione dal modello Zero Trust e richiede una classificazione e lo vedete proprio come una sorta di imbuto quando entra poi entra nell'imbuto quindi l'ho classificato io sono sicuro che quell'applicazione è Goodware devo essere poi anche in grado di andarla a monitorare e controllarla per prevenire un attacco ok quindi più indichiamo di più di 14.000 attacchi bloccati attraverso questo motore dopo che l'applicazione ad esempio è stata qualificata è stata classificata come Goodware e di nuovo il 26% di questi attacchi utilizzano PowerShell quindi vogliamo noi focalizzarci a questo punto su quello che è realmente rilevante piuttosto che spendere tempo a guardare i farsi positivi e i farsi negativi questo è il modello che noi pensiamo sia vincente perché vi permette di focalizzarvi solo su questi oggetti e non sul resto che viene automaticamente classificato dal nostro modello e poi ovviamente il threat hunting il threat hunting noi lo vediamo come l'outcome come il valore aggiunto che viene restituito sotto modello di servizio di servizi inclusi nel prodotto in questa fase di integrazione tecnologica dopo l'acquisizione di Panda Security perché ovviamente necessitiamo di avere un incident investigation quindi necessitiamo di investigare un incidente e siccome dobbiamo investigarlo lo investiamo noi facendovi notifica a voi i vostri clienti di che cosa è accaduto oppure dicevo prima attraverso i dati telemetrici che noi raccogliamo trasferirli al vostro SOC o al vostro SIEM e voi da lì puoi utilizzarli questo è il modello che noi riteniamo fondamentale ora se proviamo a comprimere la maggior parte o i vendor principali ho cercato di trovare i vendor principali che fossero più interessanti per il mercato italiano comunque europeo più che americano e con il grande rispetto che ho per alcuni di questi vendor alcuni di questi ho anche lavorato la cosa per noi fondamentale è partire dal fondo di questa slide quindi quando vedete manage services perché è fondamentale perché ovviamente molti di questi vendor hanno dei servizi premium che richiedono di pagare un extra fee per dal nostro punto di vista andare a coprire delle carenze tecnologiche che noi abbiamo coperto attraverso i due servizi citati prima zero trust innovation service e la parte di threat hunting se poi guardiamo la parte iniziale della slide del single agent ancora oggi alcuni di questi vendor faticano ad avere una tecnologia che racchiude poi tutto non solo il modello di protezione tradizionale in point protection ma la parte di R o qualsiasi altro modulo nel caso che poi abbiano dei moduli alcuni di questi vedo tre micro web root e lo sappiamo perché li abbiamo testati quindi il nostro mio collega con gli Stati Uniti ha passato del tempo andando a vedere ogni singola di queste caratteristiche ancora oggi magari questi due non comunicano real time hanno delle policy di default dove la comunicazione minima tra client e console è di 15 minuti ad esempio o vediamo ancora alcuni esempi non esiste ad oggi un singolo agent per la protezione combinata che WatchCard e PDR offre attraverso un singolo agent tra in point protection e DA so fosse un grande esempio abbiamo contato se non ricordo male dieci singoli agent in processi diversi installati su una singola macchina i moduli se guardiamo i moduli la modularità della tecnologia attraverso il singolo agent deve essere e dovrebbe essere fondamentale quindi che possa essere l'advance del reporting tool e molti di questi vendor non hanno neanche una tecnologia similare ci sono alcune eccezioni pensiamo ad esempio a Microsoft piuttosto che a CrowdStrike dove hanno piattaforme di data analytics come ovviamente WatchCard ma poi guardiamo anche Patch Management alcuni di questi hanno partnership quindi utilizzano OEM o integrano motori di terze parti e spesso non hanno coperture totali sulle applicazioni di terze parti encryption un altro esempio alcuni hanno tecnologie altri sono completamente mancanti piattaforme supportate per noi è critico ricordare che gli ambienti legacy io penso in Italia è uno stato estremamente produttivo dove aziende ancora oggi hanno ambienti legacy le cui piattaforme non possono essere aggiornate perché magari le macchine sono in produzione in linea di montaggio in linee produttive e questa magari chi ha sviluppato l'applicazione magari l'azienda non esiste neanche più quindi non ci sono patch non c'è la possibilità di aggiornarle magari è troppo anche costoso pensare di cambiarle queste macchine sulle linee produttive quindi come facciamo non proteggiamo le macchine le isoliamo dalla rete non è possibile quindi come possiamo andare a mettere in sicurezza Windows ARM e qui ci tengo a sottolineare che assieme a Microsoft siamo stati i primissimi Microsoft ovviamente perché ha rilasciato il sistema operativo ma siamo stati i primissimi a rilasciare una soluzione IDR per i chipset di nuova generazione che ad esempio supportano tecnologie 5G come quelle di Qualcomm Microsoft lo ha rilasciato attraverso Windows Defender ma non includeva nel suo supporto la tecnologia IDR noi eravamo l'unico vendor ad averlo supportato per io penso l'ultimo anno anno e mezzo ovviamente Linux le soluzioni mobile sono per noi critiche allo stesso modo bene prima di concludere lasciare magari lo spazio poi alle domande permettetemi slide praticamente commerciale ma poi sono commerciale quindi devo anche farla questa ultima parentesi dove pensiamo di avere le caratteristiche fondamentali per vincere contro i nostri competitor allora la prima domanda fondamentale è se siete interessati o se i vostri clienti sembra una domanda scontata però io la faccio se siete interessati o i vostri clienti si sono interessati a fermare immediatamente ora adesso il ransomware una volta per tutti quindi se siete afflitti i vostri clienti sono afflitti dal ransomware questo è il momento opportuno il momento buono per poter cambiare tecnologia non abbiamo più questo problema fatto salvo misconfigurations avete interesse a farvi affiancare non solo acquistare tecnologie ma farvi affiancare da quello che noi chiamiamo un endpoint security team quindi attraverso queste feature che sono erogate attraverso servizi volete volete consolidare le vostre risorse le vostre persone fare qualcos'altro invece che mettersi lì a guardare ogni singolo incidente perché la tecnologia vi permette automaticamente identificare di stoppare quelle che sono le minacce sconosciute e di nuovo capisco che sia un ambito estremamente interessante adoro le vulnerabilità andare a guardare esattamente quali sono le implicazioni come poterle andare a a appicciare quelle applicazioni che possono essere critiche se non appicciate ma a un certo punto cos'è prioritario rendere efficace il loro deployment piuttosto che la ricerca perché se state cercando oggi di rendere prioritario il loro deployment e sto parlando anche di applicazioni di terze parti questo secondo me è il modello opportuno ovviamente poi nulla toglie che una volta distribuita la patch che viene identificata come critica o prima del loro deployment voi potreste attraverso il prodotto quindi attraverso il patch management di Watchcard andare poi a guardare esattamente cosa fa questa patch e di nuovo se il vostro obiettivo è aumentare le performance delle macchine e iniziare a disinstallare decine di agent che fanno cose diverse software inventory hardware inventory full disk encryption patching la parte di correlazione degli eventi quindi quindi la raccolta di dati telemetrici attraverso una singola piattaforma questa è la soluzione perfetta e poi se io voglio ottenere più visibilità voglio fare qualcosa di più abbiamo parlato in una sessione precedente del security assessment quindi sono o vorrei estendere di più la mia visibilità per fare anche servizi a valore o avere informazioni tipo real time attraverso la piattaforma di data analytics questo di nuovo è il momento giusto questo è il momento giusto per passare a siamo già arrivati all'ora quindi io mi fermo lascio vi ringrazio e lascio la parola a Eli per vedere se sono delle domande e i vanno ovviamente grazie ancora grazie grazie Gianluca sì abbiamo qualche domanda che adesso ti leggo allora ci chiedono se ci puoi fornire un esempio di come è possibile utilizzare i dati di telemetria ok ci sono ci sono moltissimi esempi se ci sono dividiamoli in due macro categorie cerco di farlo a breve il primo è i dati di telemetria raccolti da ogni singolo agent vengono inviati alla piattaforma che si chiama advanced reporting tool quindi la parte di data analytics da lì io potrei o attraverso i widget che sono già preconfigurati nella tecnologia avere visibilità rispetto ad esempio la connettività di rete ok quindi il volume di traffico di rete che viene generato da ogni singolo utento ogni singolo host ogni singolo processo quindi potrei avere visibilità e dire ok se ricevo la mentele da parte del mio cliente o da parte della mia organizzazione che internet potrei andare a guardare esattamente chi sta consumando più banda attraverso i dati telemetrici raccolti oppure un altro esempio potrebbe essere forse l'ho citato durante la presentazione sono interessato a capire chi sta installando del software oppure chi sta killando dei processi oppure l'accesso ai dati questo è un altro grande esempio ok e ricordiamoci sempre che la tecnologia permette di anonimizzare le informazioni quindi se sono più interessato ad avere una vista generale di chi utilizza i dati in modo anonimizzato posso averla e quindi chi sta utilizzando magari delle informazioni che sono più legate al marketing perché magari sono in un determinato folder o perché vengono utilizzate una certa piattaforma fino poi togliendolo la parte di anonimizzazione spostandosi sulla parte di GDPR ad esempio perché sono più interessato a guardare la parte di compliance la seconda categoria di esempi è e poi qua chiudo è se ho un sim un sim quindi security instant event management o un SOC quindi io raccolgo i dati telemetrici ricordiamoci non sono degli incidenti ok sono attributi raccolti dal nostro agent e faccio un feed della mia pettaforma perché sono dati più qualificati non ho solo il log non ho solo un potenziale incidente devo correlarlo con qualcosa di più ad esempio il login da parte in utente la creazione di un file piuttosto che il dump di un database su una macchina locale o il trasferimento di file all'interno della rete fino poi alla geolocalizzazione in tempo reale di un processo questi sono alcuni esempi ma ne abbiamo tantissimi altri spero di aver risposto alla domanda sì sì grazie ti confermo perfetto poi ci chiedono advanced reporting tool e i dati telemetrici sono la stessa cosa se no qual è la differenza ok ok allora direi non sono la stessa cosa la parte di advanced reporting tool è la piattaforma di data analytics quindi è l'interfaccia che io utilizzo quando i dati di telemetria o una parte dei dati di telemetria vengono poi raccolti dall'agente e inviati alla piattaforma quindi è un'interfaccia che mi permette di avere già questi widgets configurati ad esempio e mi permette di navigare di utilizzare di fare query di visualizzare i dati poi se guardiamo solo i dati telemetrici non tutti i dati telemetrici vengono inviati alla piattaforma di advanced reporting tool e c'è una ragione abbiamo deciso di inviare solo quelli che riteniamo fondamentali per una prima analisi sulla piattaforma tutti i dati telemetrici possono essere ovviamente inviati attraverso il CM feeder quindi questo modulo che abbiamo alle piattaforme di SOC o alle piattaforme CM e c'è un motivo di fondo se oggi utilizzate Splunk Elasticsearch qualsiasi piattaforma di data analytics saprete molto bene che il costo di queste piattaforme è per traffico dati ok mentre la scelta che abbiamo fatto noi è di darvi la possibilità di utilizzare una piattaforma di data analytics pensata per analizzare dati raccolti sull'endpoint che non si basa il modello di licenza non si basa su il traffico dati ma si basa sul numero degli endpoints quindi non abbiamo avuto possibilità di travasare tutti gli eventi all'interno della piattaforma ne abbiamo selezionati un subset molto rilevante ma dall'altro punto dal nostro punto di vista abbiamo un enorme vantaggio che è quello della licenza quindi pagate sicuramente molto meno di uno Splunk e magari non avete la necessità di fare correlazione di eventi con altre piattaforme se avete necessità di fare la correlazione di altre piattaforme ovviamente potete farlo attraverso il vostro sim e quindi con i dati interi che raccogliamo che vi inviamo se volete approfondire questo approccio metodologia queste varie opzioni mi invito di contattare la nostra studia di prevendita per approfondire che potranno dare informazioni sicuramente precise perfetto grazie ancora e poi abbiamo un'ultimissima domanda se il servizio di classificazione blocca le mie applicazioni prima dell'esecuzione come posso evitare di rimanere fermo in attesa della loro classificazione è possibile evitarlo? la risposta è sì però la risposta è troppo semplice allora mettiamola da questo punto di vista bisogna bilanciare quella che è il livello di sicurezza che vogliamo implementare sui nostri sistemi e sui sistemi dei nostri clienti e quindi il sistema ovviamente nasce per fornire una sicurezza si può dire già più bilanciata quindi se non avete profonda conoscenza del prodotto comunque ci sono tre profili audit hardening e lock il prodotto viene distribuito come default in hardening e ovviamente dà la possibilità a tutto quello che è già installato sulla macchina preinstallato prima di aver distribuito l'argent watch car e pdr di essere eseguito ma allo stesso tempo di classificarlo quindi non c'è nessun blocco dell'operatività nel momento in cui lo installo non c'è nessun blocco di nessuna natura ad eccezione quando una volta eseguita l'applicazione perché siamo in hardening classificata e classificata come malware ovviamente poi l'applicazione viene bloccata poi l'amministratore del sistema voi come partner potreste sempre decidere in qualsiasi momento di fare una sorta di override quindi dire watch car ha identificato l'applicazione sconosciuta la deve classificare ma se voi voleste prendervi la responsabilità di eseguirla ovviamente c'è il modo di eseguirla senza bloccare la vostra operatività noi lo sconsigliamo perché qualcosa accade se quell'applicazione poi è davvero malevola avete una macchina compromessa poi magari tornate al supporto e dite ah ho la macchina compromessa come è possibile quindi diciamo che la risposta semplice è ovviamente sì noi consigliamo però di fare molta attenzione perché ovviamente nelle minacce sconosciute essendo sconosciuta se un utente fate la scarica e voi fate un override la macchina potrebbe essere compromessa quindi il nostro consiglio è di lasciare che il processo di obbligazione faccia il suo corso di nuovo il processo di obbligazione è classificazione real time quindi la latenza il tempo che trascorre dal momento in cui viene bloccata al momento in cui viene classificata fatta eccezione per quei file che richiedono una classificazione manuale è quasi istantanea quindi nel momento in cui magari l'utente segnala che l'applicazione è stata bloccata quando voi andate a guardare la console ovviamente è già stata classificata e viene viene permessa l'esecuzione anche qua vi invito magari a prendere contatto con la parte di prevendita per andare a meglio coprire tutti i vari casi d'uso perché mi viene in mente un altro caso che potrebbe essere se voi avete un'azienda o se state sviluppando del software ogni volta che voi create un software e lo ricompilate quell'oggetto ricompilato sarà sempre sconosciuto quindi immagino che nel vostro staging di sviluppo software ci sia ad esempio una macchina di preproduzione sulla quale voi poi andate a fare il test del software prima della messa in produzione il nostro consiglio ad esempio è di mettere quella macchina di staging in lock in modo tale che prima del rilascio del software che è stato sviluppato da voi venga classificato come Goodware e apro una parentesi alcuni dei nostri partner utilizzano il nostro servizio di classificazione come una sorta di certificazione malware free perché io sviluppo un'applicazione viene classificata da un vendor come Goodware in realtà ne abbiamo messo una sorta di sigillo di approval che quell'applicazione è un Goodware ovviamente non rientra nel nostro lavoro però diciamo che alcuni partner la utilizzano questo approccio mi sono dilungato una risposta ma penso che vale essere la pena sì è stato è stato super utile perfetto grazie per il momento non abbiamo non abbiamo altre risposte altre domande e ti ti ringraziamo insomma nuovamente per la per la presentazione per questi questi approfondimenti appunto ricordo colgo l'occasione per ricordare a tutti che ovviamente questa è l'ultima sessione di questi webinar di partner sales enablement che si focalizzano sulla parte di endpoint security tuttavia i nostri webinar series quindi quelli gli appuntamenti insomma a calendario appartenenti al ciclo appunto webinar series continueranno fino a dicembre e in particolare vi invito alla sessione di questo venerdì quindi venerdì 26 alle 12 in cui parleremo dei nuovi moduli addizionali per appunto sempre la parte di endpoint security che sono stati aggiunti in watchcard cloud e in particolare parleremo di watchcard patch management watchcard full encryption watchcard advanced reporting tool e quindi scusatemi watchcard data control sto fermandoci appunto su come aggiungere ulteriori moduli a quella che è la proposizione di sicurezza per la parte di endpoint security e concludo lasciando la parola appunto a Ivan vi ricordo appunto che da settimana prossima poi sarà disponibile la registrazione sul nostro canale youtube e per qualsiasi domanda potete scriverci alla nostra casella di posta elettronica che è italichiaccelawatchbar.com grazie ancora a tutti rinnovo anch'io i ringraziamenti a tutti i saluti grazie ancora per aver partecipato a queste sessioni molto interessanti un ringraziamento doveroso anche a Gianluca che è stato davvero disponibile visto anche il fuso orario ma ci ha dato tantissime tantissime informazioni molto interessanti e molto soprattutto funzionali al nostro e al vostro e al vostro lavoro per coloro che si sono iscritti al nostro evento vi vi rimando a dopo domani quando ci vedremo o in presenza o da remoto dove vi faremo vedere delle cose che spero troverete molto interessanti grazie ancora a tutti e buona continuazione di giornata grazie di nuovo grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti